Eccoci qua, allora a grande richiesta oggi iniziamo un bel corso su un tool di Max 365 che è super utilizzato OneDrive oppure OneDrive for Business OneDrive è lo strumento che ci permette di avere da una parte un spazio di archiviazione cloud per i nostri file di lavoro dall'altra di avere questi file sincronizzati sul nostro computer e quindi avere un accesso offline Oggi parliamo di OneDrive for Business perché è la versione di OneDrive che sta in Microsoft 365 quindi la versione per le aziende Fate conto che gran parte delle informazioni, delle funzionalità che vedremo di OneDrive for Business sono anche presenti in OneDrive per i privati, quindi per i freelance, per le famiglie, per chiunque voglia utilizzare questo spazio di archiviazione nel cloud di Microsoft Partiamo con l'argomento che secondo me è il più importante per capire bene le differenze cioè le versioni e i relativi costi Come vi dicevo prima, OneDrive è un tool di archiviazione, è un tool di sincronizzazione ed è possibile utilizzarlo sia in azienda sia privatamente Spostiamoci nel mio PC e vediamo bene quali sono le opzioni che Microsoft ci mette a disposizione Se scrivete OneDrive su Google entrate subito in questa pagina dove vedete immediatamente le differenze tra i vari piani Guardiamo i piani per i privati I piani per i privati sono ben 4 C'è un piano Microsoft 365 Family, 99€ all'anno che fondamentalmente comprende OneDrive, comprende la posta e tantissime altre applicazioni tra cui Teams, tra cui l'antivirus per il computer, tra cui Clipchamp che è per fare l'editing dei video e tanti altri soprattutto Family Safety perché è previsto, diciamo, è un tipo di licenza che è prevista per la famiglia ok? più persone all'interno della famiglia lo possono utilizzare un massimo di 6 persone ok? per ognuna di queste 6 persone c'è fino a un tera di spazio e questa è una delle cose più belle secondo me di OneDrive perché il tera di spazio è una quantità di spazio che è presente sia per privati che per aziende vedremo poi le aziende hanno anche di più poi lo guardiamo poi il Microsoft 365 Personal tutto come la Family però per una sola persona e non c'è ovviamente il Family Safety perché in questo caso non serve anche qua un tera di spazio 69 euro all'anno poi per quelle persone che invece non hanno bisogno dell'antivirus, dell'accesso a Office, Web e così via c'è una licenza Microsoft 365 Basic 20 euro all'anno che ti dà la possibilità a una singola persona di utilizzare 100 giga di spazio di OneDrive ok? di archiviazione sul cloud di Microsoft più l'accesso alla posta infine dovete sapere che OneDrive è anche gratuito nel senso che se create un account su Outlook.com o comunque un qualsiasi account Microsoft 365 anche con la vostra email personale avete la possibilità, ogni persona che fa l'account di utilizzare fino a 5 giga di spazio di archiviazione cloud gratuito questo secondo me è uno dei vantaggi di pensare a OneDrive per la propria archiviazione personale passiamo invece alle opzioni per le aziende le opzioni per le aziende sono diciamo qui è OneDrive for Business è proprio il nome che è stato dato alla versione di OneDrive però appunto per le aziende in questo caso abbiamo un piano specifico che contiene solo OneDrive for Business si chiama OneDrive for Business P1 piano 1 che costa 4,70 euro utente mese e consente fondamentalmente solo di avere l'archiviazione quindi ho un tera di archiviazione più la possibilità chiaramente di condividere i file ed c'è solo OneDrive incluso OneDrive poi è presente all'interno di praticamente la maggior parte delle licenze di Microsoft 365 per le aziende vediamo infatti qui in questa schermata le Microsoft 365 Business Basic e le Microsoft 365 Business Standard che contengono OneDrive insieme a tutti gli altri prodotti della suite Microsoft 365 quindi la posta, Office, SharePoint in questo caso anche in questo caso diciamo le aziende che danno ai loro utenti queste licenze ricevono un tera di spazio di archiviazione per ogni utente che ha la licenza oltre all'archiviazione della posta che è 50 giga e la differenza tra Business Basic e Business Standard sta semplicemente nelle versioni dei software di Office che si possono utilizzare da PC queste però sono alcune delle licenze che Microsoft 365 ha per le aziende c'è anche la Business Premium che anch'essa contiene OneDrive ci sono poi tutte le licenze Enterprise la Office 365 E1, l'E3, l'E5, la Microsoft 365 E3, E5 e così via che tutte contengono OneDrive for Business quindi tutte hanno la possibilità di dare agli utenti a cui viene assegnata una licenza un tera di spazio cloud addirittura per chi ha le licenze Enterprise lo spazio cloud che viene dato ad ogni utente è infinito, illimitato veramente illimitato non c'è proprio il limite del tera che invece hanno le licenze Microsoft 365 e Business che abbiamo visto adesso ok? in questo caso chiaramente l'amministratore ha la possibilità di comunque mettere delle quote per evitare che gli utenti non vadano ad avere degli spazi di archiviazione veramente veramente stracolmi di file che poi diventano difficilmente gestibili ok? questa è la principale differenza quindi da ora in poi chiameremo OneDrive per i privati e OneDrive for Business la versione del software di archiviazione e di sincronizzazione per le aziende ok? andiamo avanti e vediamo bene diciamo OneDrive ok? perché qui Microsoft non è stata tanto precisa secondo me perché ha chiamato OneDrive in generale il servizio ok? OneDrive in realtà è fatto da più componenti c'è una cartella di archiviazione cloud dove io posso andare a mettere i miei file di lavoro essere sicuro che non vengano persi avere il versioning e tante altre funzionalità che adesso vedremo ma in più OneDrive è anche il nome che è stato dato al software di sincronizzazione che è installato sul vostro computer quindi l'iconcina che vi appare con una nuvoletta blu in basso a destra nel vostro computer che poi adesso guardiamo è esattamente il nome di uno strumento è il tool di sincronizzazione di OneDrive ok? quindi quando parliamo di OneDrive cerchiamo sempre di ricordarci questa differenza molto molto importante vista questa differenza andiamo direttamente a vedere un altro argomento che è appunto l'accesso all'interfaccia web di OneDrive come vi dicevo uno dei modi di utilizzare OneDrive quindi di metterci dei file di usare lo spazio cloud che mi dà Microsoft è quello di usare appunto un sito web tramite il proprio browser e caricarci le cartelle creare nuovi file e così via successivamente guarderemo anche invece la possibilità di sincronizzare questi file con il proprio computer spostiamoci quindi all'interno dell'interfaccia web di OneDrive e vediamo un po' come è organizzata ok? questa che vedete è la home page la home page è fatta da delle macro aree sulla sinistra vedete il menu di navigazione che vi permette di spostarvi tra un contenuto e l'altro sulla destra invece vedete quelle che sono gli aggiornamenti che di recente sono stati fatti nei propri file all'interno della propria cartella di archiviazione sul cloud ma anche in tutti quei file in cui io ho accesso per esempio file che sono stati messi su siti sharepoint condivisi dove io ho accesso file che sono stati inseriti all'interno di gruppi teams in cui sempre il mio utente ha accesso ok? anche qui ricordiamoci bene una cosa OneDrive oltre ad avere un'interfaccia web oltre ad avere la possibilità quindi di caricare e archiviare dati tramite questa interfaccia web oltre ad avere la possibilità di sincronizzare con uno strumento di sincronizzazione nel proprio pc questi file ci permette anche di sincronizzare i file che sono presenti all'interno di siti sharepoint oppure all'interno di gruppi teams ok? ed è un po' il perché io riesco a vedere dei documenti in questa home page che sono stati modificati dai miei colleghi all'interno di gruppi teams in cui io sono membro oppure sono owner ok? sulla sinistra vediamo un po' quella che è la navigazione la navigazione mi permette di spostarmi dall'home page ai miei file posso vedere i file che sono stati condivisi con me e che io ho condiviso con gli altri vedere dei file che magari ho messo come preferiti perché ci lavoro spesso e allora voglio un accesso rapido accedere al cestino sfogliare i file in due diverse modalità o per persone quindi chi ha fatto le ultime modifiche oppure per riunioni e secondo me questa è una funzionalità molto molto utile perché in base alle riunioni che io ho fatto in passato o che avrò in futuro OneDrive cerca in automatico se ci sono dei documenti che sono stati condivisi in quella riunione o comunque che possono essere utili per prepararmi alla riunione successiva sulla sinistra poi in basso ho poi l'accesso a tutti quei gruppi teams dove io appunto sono membro oppure owner e dove posso diciamo trovare file che mi interessano per il mio lavoro se accedo a queste aree accedo proprio direttamente al tab files di teams quindi vedo il contenuto che c'è solitamente all'interno del tab files del gruppo che ho scelto che sto vedendo qui se faccio clic sui miei file vedo esattamente l'elenco di tutte le cartelle che io ho archiviato all'interno della mia area di archiviazione cloud in OneDrive e qui posso fare diciamo tutta la gestione delle cartelle che voglio le posso navigare ok posso entrare in una cartella vedere i file che ci sono dentro aprirli e qui sfrutto diciamo tutte le funzionalità di office web per accedere ai documenti e per modificarli ovviamente ogni volta che entrate in una di queste applicazioni e vedete qua su in alto l'iconcina con la nuvoletta e la spunta significa che questo file è stato salvato nel vostro OneDrive oppure su teams chiaramente dipende da dove è stato accedendo e nel caso in cui diciamo fate una modifica vedete che lui velocemente fa un aggiornamento quindi per dirvi che questo file è stato salvato sul cloud di Microsoft l'utilizzo delle office web app in generale è super utile perché io posso modificare e visualizzare file del pacchetto office e non solo tramite il mio browser quindi senza scaricare il file senza sovraccaricare la banda della mia azienda per la mia connessione e avere il file sul computer ok ovviamente per usare le office web app devo avere accesso a internet così come per usare l'interfaccia web di OneDrive se non ho accesso a internet non ci posso proprio accedere non posso fare nessuna azione qua in alto a sinistra ho la possibilità poi di aggiungere nuovi contenuti e qui ho la possibilità di creare nuove cartelle sia cartelle di cartelle oppure cartelle di primo livello posso caricare dei contenuti che invece sono nel mio pc posso caricare file singoli file multipli e addirittura delle cartelle intere in più posso partire con la creazione di nuovi contenuti di nuovi documenti tramite uno di questi template posso creare un file word creare un file excel una presentazione powerpoint eccetera eccetera ok la cosa molto importante che dovete ricordarvi quando caricate un file all'interno del vostro OneDrive tramite diciamo le classiche operazioni di drag and drop è che il file una volta spostato in OneDrive diventa fondamentalmente cioè il file che avete nel vostro pc diventa fondamentalmente una copia ok facciamo l'esempio scegliamo una cartella qualunque dove mettere un file apriamo una cartella del mio pc e facciamo un'operazione di drag and drop vedete che appena sposto il file all'interno dell'interfaccia web di SharePoint l'iconcina diventa con un più e la parolina copy nel mio caso Windows in inglese quindi copy appena rilascio lui mi carica il file all'interno del mio OneDrive quindi all'interno dell'area cloud che ho a disposizione grazie al mio account Microsoft 365 eccolo qua caricato pochi secondi fa da me con il peso e mi dice OneDrive anche che è un file privato perché per ora non è stato condiviso con nessuno ecco questo file qua che è rimasto nel mio computer sotto il disco C è una copia ok che cosa significa significa che questi due file adesso sono completamente staccati l'uno con l'altro quindi il giorno in cui io farò una modifica a questa immagine oppure a un qualsiasi altro documento che vado a caricare su OneDrive in questa modalità chiaramente la modifica non si ripercuote all'interno di questa cartella una cartella che è sul mio disco C che non è sincronizzata con OneDrive ok molto molto importante questo non dimenticatevelo OneDrive poi che cosa mi dà come funzionalità aggiuntive vabbè la principale è sicuramente quella di avere spazio disponibile sul cloud per archiviare i miei dati ma non solo perché su ognuno di questi documenti io ho la possibilità di utilizzare diverse funzionalità quella che secondo me conviene diciamo citare di più è la cronologia delle versioni cioè ogni volta che io metto un file in OneDrive lo modifico lo riguardo faccio qualsiasi attività su questo file OneDrive si salva una versione questo mi permette di in qualsiasi momento di vedere una versione precedente e di ripristinarla ok così evito perdite di dati in più su documenti tipo Word ok dove ho la possibilità di usare strumenti come gli strumenti di revisione posso proprio vedere le differenze tra una versione e l'altra vi faccio vedere come in questo caso per accedere alle versioni faccio clic sui tre puntini c'è cronologia versioni vedo qui le due versioni che ho fatto il 12 e se si il 12 febbraio c'è la versione 1 che è la versione originale del file e la versione 2 che è la versione attuale del file cioè quella che vedo all'interno del mio OneDrive faccio clic sulla prima versione mi si apre Word sul mio computer vedete che la prima cosa che mi dirà qualsiasi in alto è attenzione guarda che questo documento non è la versione finale ma è una versione precedente cosa vuoi fare? vuoi fare una comparazione tra il contenuto di questi due documenti oppure lo vuoi restaurare? restaurare significa far diventare questa versione la versione attuale ovviamente senza cancellare la versione attuale ma semplicemente creando una nuova versione nel mio caso la versione 3 se faccio compare come vi dicevo qui posso sfruttare tutte le funzionalità delle revisioni di Word per vedere quali sono state le differenze tra il documento che sto visualizzando e il documento invece principale quindi la versione attuale ok? e questo me lo offre Word perché Word ha funzionalità di comparazione delle versioni se invece avete questa necessità su file excel non c'è questa possibilità su powerpoint mi sembra che c'è qualcosa su tutti gli altri file niente quindi in questo caso dovete decidere se tenere una versione vecchia tenere l'attuale oppure diciamo fare una comparazione manuale visiva ok? bene chiudiamo tutte queste tutti questi file Word secondo me quella delle versioni è sicuramente la funzionalità principale di OneDrive mi evita così di creare dei file all'interno del mio computer chiamandoli v1 v2 old new o qualsiasi altro diciamo appellativo siete abituati a dare ai vostri file perché non c'è più bisogno tengo un file unico e ho comunque la possibilità di vedere tutte le vecchie versioni del mio documento o del mio file che vengono tracciate automaticamente ovviamente più modificate il file più generate versioni dello stesso file c'è un massimo di 500 versioni tutte queste versioni ovviamente vanno a erodere lo spazio che avete quindi se avete un tera ricordatevi che se mettete dei file grandi li modificate in continuazione state erodendo tanto spazio del vostro OneDrive for Business ok e questo chiaramente vale anche per OneDrive privato altre funzionalità molto carine sono l'anteprima io guardo il file senza aprirlo ok senza diciamo scaricarlo sul mio pc senza aprirlo in modalità modifica così evito di fare modifiche per sbaglio e posso tranquillamente vedere tutto il contenuto del documento in maniera molto molto semplice tra l'altro qui si apre una visualizzazione della preview del file che mi permette di andare avanti indietro nelle varie preview di tutti i file della stessa cartella scegliere magari di aprire questo file per la modifica e qui posso scegliere di aprirlo in Word online oppure in Word sul mio pc ho lo strumento di lettura immersiva molto carino uno strumento inclusivo che mi permette di leggere il documento con la possibilità insomma di scegliere preferenze sul testo ma soprattutto di farmelo leggere da una voce automatica molto molto carino e in più ho la possibilità di scaricare questo file attenzione che se decidete di scaricare un file dal vostro OneDrive non lo state sincronizzando col vostro computer ma state scaricando una copia quindi state generando una copia di un file che poi non è più sincronizzata con la versione originale del vostro file in OneDrive molto molto importante questo ricordate altra funzionalità molto carina è la condivisione poi la guardiamo i preferiti come vi dicevo se aggiungo un documento ai miei preferiti me lo ritrovo sulla sinistra perché magari diciamo è un documento che ultimamente sto modificando molto e allora me lo tengo tra i preferiti così ho un accesso più rapido senza andarlo a cercare nei meandri delle mie cartelle altre funzionalità vabbè ci sono tutte le classiche quindi rinomina copia posso copiare un file all'interno del mio OneDrive oppure in uno dei gruppi Teams a cui partecipo in questo caso vedete posso appunto scegliere i miei file quindi copiare questo documento all'interno del mio OneDrive oppure posso scegliere uno di questi gruppi Teams a cui ho accesso per copiarci il file dentro lo stesso per gli spostamenti posso rinominare il file e poi molto molto carino posso effettuare delle azioni ok posso fare delle azioni di automazione su questo file che cosa sono le automazioni la prima lui mi genera subito dei file pdf da file word dei file pdf da file excel o da powerpoint molto molto utile per magari condividere questi file in una versione non modificabile e magari mandarli via email oppure posso integrare OneDrive con Power Automate per creare dei flussi di automazione ok Power Automate è fortemente integrato con OneDrive in questo caso vi consiglio di guardare la mia guida su Power Automate presente in youtube ok diciamo quindi che in questo modo io ho la possibilità di gestire in completa autonomia tutta la mia archiviazione di file di contenuti online sul cloud di microsoft come vi dicevo oltre a poter vedere tutti i miei file ho anche la possibilità di accedere ad altre aree dell'interfaccia web posso vedere i file che sono stati condivisi e qui ho due visualizzazioni i file che sono stati condivisi con me quindi qualcuno mi ha condiviso un file a cui ho accesso di recente oppure i file che sono stati condivisi da me questo perché può capitare che io lavoro su un documento voglio condividerlo con qualcuno e poi voglio accedere più facilmente diciamo alla lista dei file che ho condiviso di recente ok magari per togliere una condivisione il concetto della condivisione in OneDrive è molto molto utile poi lo vediamo c'è un capitolo ad hoc qui l'interfaccia mi permette di switchare tra queste due visualizzazioni oppure fare dei filtri in base alla tipologia di contenuto quindi o le cartelle oppure le varie tipologie di file ovviamente sia in tutte queste visualizzazioni quindi sia nell'area my file sia nell'area dei documenti condivisi ho la possibilità di fare delle ricerche qua su si possono fare ricerche all'interno del mio OneDrive in modalità full text cosa significa significa che il sistema non cerca solo all'interno dei nomi dei file ma anche all'interno proprio del contenuto lui indicizza il contenuto dei file word dei file powerpoint di tutti i file office file di testo ma anche dei file pdf ok e soprattutto anche dei file pdf che sono stati scannerizzati anche nelle immagini ha delle funzionalità di OCR gli OCR sono questi sistemi che ti permettono di estrapolare il testo in automatico da un'immagine molto molto utile ovviamente OneDrive ha anche la parte mobile che non vedremo in questa guida ma che di fatto ti permette di accedere dal tuo dispositivo mobile a tutti questi contenuti che è archivato nella cartella cloud e che puoi quindi modificare in movimento senza alcun problema poi sulla sinistra ho l'area preferiti vedete io non la uso tanto in realtà però a volte mi è utile in questo caso c'è proprio il file che ho messo come preferito prima infine c'è il cestino il cestino è un'area diciamo di pre cancellazione ok dove possono andare i miei file che vengono cancellati dal mio OneDrive ok poi abbiamo la possibilità di sfogliare i file condivisi per persone e qui vedete una funzionalità molto molto carina perché io vedo l'elenco delle persone con cui collaboro più spesso su documenti sulla sinistra e sulla destra ho un accesso rapido a quelli che sono i file che sono stati modificati di recente da queste persone a cui ho accesso ok ed è un modo questo per essere aggiornati su quelle che sono e le modifiche che vengono fatte dai miei colleghi sui file in cui posso operare anche io ok in aggiunta ho la possibilità di vedere invece l'elenco dei documenti delle registrazioni di qualsiasi file che sono state legate a riunioni che ho fatto in precedenza riunioni teams chiaramente in questo caso vedete le riunioni che ho fatto negli ultimi giorni con la relativa registrazione e in alcuni con i relativi file che sono stati condivisi durante la riunione molto molto utile questa funzionalità così in un punto solo ritrovo tutte le registrazioni dei meeting a cui ho partecipato e che ho registrato ok se vado poi invece sulla sinistra nell'area accesso rapido ho la possibilità di avere un accesso appunto veloce all'interno di tutti quelli che sono stati i file e le cartelle che sono condivisi all'interno dei gruppi teams in cui io partecipo ok come vedete accedo a quest'area diciamo documentale che è relativa al gruppo teams in questo caso che si chiama internet AI in cui vedo subito il primo livello di cartelle in questo caso siccome si tratta di un gruppo teams vedo per esempio una cartella per ogni canale notate qua il canale general che è il canale di default che viene creato quando viene creato un nuovo gruppo teams ok e qui semplicemente diciamo accedo a tutti i diciamo i file in visualizzazione o in modifica perché ho il permesso di farlo chiaramente e qui l'attività che mi permette di fare l'interfaccia web di OneDrive all'interno di questi file in gruppi teams varia in base ai miei permessi magari io nel gruppo ho una lettura e quindi anche da OneDrive posso solo leggere se ho invece ownership o comunque modifica dei file posso anche qua aggiungere cartelle modificarle rinominarle aggiungere file modificarli e così via ok OneDrive in questo caso mi fa da finestra su quelli che sono i contenuti che sono presenti all'interno del mio gruppo teams nell'area files nel tab files ok benissimo come ultima cosa che vi volevo far vedere nell'interfaccia web di OneDrive è l'area impostazioni che trovate in alto qua sulla destra in questa iconcina avete la possibilità di accedere alle vostre impostazioni personali di OneDrive avete la possibilità di scaricare le applicazioni legate a OneDrive sia quella mobile sia quella che si installa sul computer che adesso vediamo ma soprattutto avete la possibilità di sincronizzare questa vostra cartella OneDrive sul cloud di Microsoft e questa è un'opzione molto utile quando magari cambiate computer volete sincronizzare tutti i file sul vostro pc locale che è vuoto e non ha i file sincronizzati ancora fate clic qua e lui ve li sincronizza ok una funzionalità che è veramente veramente bella di OneDrive for Business nell'area dei settings è la possibilità di ripristina OneDrive for Business ti dà uno strumento per diciamo ripristinare in autonomia dei file delle versioni dei file o anche magari tutto l'elenco dei file presenti all'interno della vostra cartella di archiviazione cloud basata su una timeline quindi posso appunto vedere i file modificati ieri i file modificati una settimana fa tre settimane fa oppure in una data e un orario specifico quindi in completa autonomia io vedo tutti i file che diciamo ho modificato in questo periodo e uno a uno posso decidere quali ripristinare OneDrive non è tanto diciamo uno strumento di backup ma è sicuramente un sistema diciamo che ti permette di avere una archiviazione cloud con pochissime possibilità di perdere dei dati ok questa che vediamo in effetti è una funzionalità proprio di restore di ripristino di un dato ok molto molto utile bene interrompe il ripristino ritorniamo alla mia interfaccia web per andare al prossimo capitolo dopo avervi spiegato bene quelle che sono le funzionalità dell'area web di OneDrive for Business vorrei spiegarvi bene come funziona il client di sincronizzazione ok il client di sincronizzazione è quello strumento che viene installato nel vostro computer e se avete Windows 11 installato di default in cui io posso inserire il mio username e password e posso andare a sincronizzare tutti i file della mia cartella OneDrive di archiviazione cloud li posso sincronizzare sul mio computer per far cosa due cose principali uno l'accesso dalle cartelle del mio computer perché magari sono abituato a lavorare con le cartelle voglio i file nel mio computer e sono diciamo contento così posso farlo punto numero due la sincronizzazione dei dati di OneDrive sul proprio computer serve per un accesso offline ok quindi un accesso ai file e modifica anche senza rete vediamo bene come funziona questa parte mi tolgo perché così vi faccio vedere questa iconcina qua giù in basso vedete iconcina con una nuvoletta blu e un simbolo di sincronizzazione che mi dice che su questo computer è presente OneDrive e addirittura sta sincronizzando dei file se faccio clic su questa iconcina vedo immediatamente quello che è in tempo reale l'attività di OneDrive client quindi del tool di sincronizzazione che sta facendo sul mio computer ok e qui cosa succede vedete innanzitutto il file che ho caricato prima a mano nel mio OneDrive e siccome il mio OneDrive è stato sincronizzato all'interno del mio computer questo file è stato immediatamente sincronizzato anch'esso nel mio pc in più vedo il file che ho modificato prima tramite l'interfaccia web e se vedete questa lista si sta modificando in continuazione perché in questo momento magari ci sono dei miei colleghi che stanno modificando una presentazione powerpoint presente all'interno di uno dei gruppi Teams in cui ho accesso e OneDrive in continuazione mi tiene aggiornato questo file fantastico OneDrive come vi dicevo fa da client di sincronizzazione sia per la vostra cartella personale sul cloud di Microsoft ma anche per tutti i gruppi Teams o i siti SharePoint in cui avete accesso ok queste due sincronizzazioni siete voi a doverle installare nel computer quindi come vi dicevo se è la prima volta che avete un computer nuovo e volete installarci OneDrive sopra prima di tutto dovete scaricare l'applicazione client di OneDrive e poi sincronizzare il vostro OneDrive sul computer una volta sincronizzato eccolo qua mi viene creata in automatico una folder che contiene il mio nome il nome della mia azienda e qui capisco che sto facendo diciamo attività sto visualizzando i file del mio OneDrive aziendale ok quello che mi viene dato con la licenza Microsoft 365 e qua ritrovo esattamente lo stesso identico elenco di file che vedo tramite l'interfaccia web vedete esattamente lo stesso questo perché OneDrive appunto il client di sincronizzazione sincronizza i file che avete nella vostra cartella di archiviazione online li sincronizza sul vostro computer e qui io posso accederci tranquillamente apro una cartella vedo i file che sono stati caricati al loro interno posso aprire un file ok facendoci doppio clic sopra e fare qualsiasi azione in questo caso lo modifico ok se guardate qua su in alto ad ogni modifica in questo caso Word che è il client che io ho scelto per accedere a questo file e modificarlo si preoccupa in automatico di salvare la modifica sul mio OneDrive così che il file è sempre archiviato online chiaramente questo salvataggio Word lo può fare perché io ho accesso alla rete adesso ok come vi dicevo prima OneDrive for Business vi permette anche di modificare file senza accesso e in questo caso al posto di salvare in automatico il file come è fatto adesso OneDrive si tiene questa versione del file in locale nel vostro computer e appena avrà l'accesso a internet si preoccuperà di fare un caricamento della nuova versione ok se ritorniamo indietro adesso chiudo questo file ritorniamo nell'interfaccia web che purtroppo devo dirvi è l'unica che vi permette di accedere alla cronologia delle versioni ok tramite il client quindi tramite il vostro computer non potete accedere alla cronologia di versioni potete accedere solo tramite l'interfaccia web qua vedete esattamente che lo riapro è stata creata una nuova versione esattamente adesso oggi è il 20 settembre quando sto registrando questo video con il contenuto del mio file vi faccio vedere dato che ci sono la possibilità di ripristinare quindi se io ripristino una versione precedente in questo caso ho ripristinato la versione 1 lui mi ha creato una versione 4.0 e se vado all'interno del mio pc riapro il file procedura vedrete che non c'è più la modifica che ho fatto prima sparita ok fantastico il client di sincronizzazione di OneDrive in diciamo qualche secondo ha sincronizzato la modifica che è stata fatta sul web e me l'ha resa disponibile sul mio computer ok bene chiudo il file e ritorniamo nella mia area di cartelle che ho sul mio computer il tool di sincronizzazione poi installa nel vostro Windows una particolare visualizzazione ok se ci fate caso questi file hanno una colonna in più che è la colonna status in questa colonna io ho la possibilità di vedere tre tipologie di icone l'icona verde l'icona con la nuvoletta bianca e blu oppure l'icona verde con le freccette di sincronizzazione queste icone mi permettono di capire qual è lo stato di sincronizzazione dei miei file ok se un file è verde ok verde vuoto significa che il file è presente sul mio computer ed è sincronizzato ok quindi io posso accederci anche offline senza l'utilizzo della rete se il file ha l'iconcina a forma di nuvoletta significa che il file non è presente sul mio computer quindi non è stato sincronizzato ma è presente solo nella mia cartella di archiviazione cloud quindi se voglio accederci devo fondamentalmente farci doppio clic siccome ho la rete lui me lo scarica in automatico ok e diventa in automatico l'iconcina al posto della nuvoletta diventa il verde se invece non ho rete purtroppo ai file con l'icona con la nuvoletta non posso accederci fondamentale state bene attenti a questo punto in realtà poi ho un'altra funzionalità e se avete visto prima velocemente quando ho fatto clic su uno di questi file si è vista l'iconcina con la sincronizzazione quindi con le doppie freccette ok ma in più ho un'altra possibilità ho la possibilità di dire guarda questo file qua tienilo sempre all'interno del mio computer facendo tasto destro sul file e scegliendo l'opzione always keep on this device che cosa significa se faccio clic su questa impostazione vedete che l'iconcina diventa da un verde vuoto a un verde pieno e qual è la differenza tra questi due stati la differenza è che un verde pieno rimane sempre il file nel vostro pc anche se non ci accedete mai ok quindi occuperà spazio nel vostro computer il file verde vuoto subirà invece un meccanismo di aggiornamento di one drive che è molto intelligente one drive guarda i file che modificate di recente e se ci sono dei file che non modificate spesso lui semplicemente li toglie dal vostro computer e lascia la versione solo cloud questo serve per risparmiare spazio sul nostro computer perché come vi dicevo di default one drive ha un tera di spazio e già ci sono molti computer che non hanno questa capacità nel disco ma soprattutto ci sono one drive in quelle licenze di microsoft 365 enterprise in cui si può dare più di un tera e chiaramente questa funzionalità di scarico del peso dei file e sincronizzazione solo cloud è ovviamente indispensabile se ci sono dei file che mi occupano tanto spazio io so già che non li utilizzerò più e quindi non ho bisogno di un accesso offline a questi file dal mio computer posso tranquillamente fare di nuovo tasto destro e scegliere l'opzione free app space free app space fondamentalmente dice a one drive che quel file non c'è più necessità che sia all'interno del mio computer ma va bene averlo solo cloud e qui vedete one drive il client di sincronizzazione sta facendo un aggiornamento c'era l'iconcina con le due freccette appena ha finito l'iconcina è diventata solo nuvoletta quindi in questo caso il file word che abbiamo modificato prima non sta più occupando spazio sul mio computer ma sta occupando spazio solo sul cloud di microsoft ovviamente se faccio doppio clic e ho la rete lui di nuovo me lo riscarica ok questo è quello che fa il client di sincronizzazione di one drive sulla vostra cartella personale come vi dicevo però potete anche andare a sincronizzare non solo i file della vostra cartella personale ma anche file che sono presenti all'interno dei gruppi teams vediamo bene il mio teams ok questo è un gruppo ad esempio ok in questo gruppo ho l'area file e se ci fate caso in ognuno di diciamo di queste visualizzazioni c'è sempre la possibilità di sincronizzare questi file con il vostro pc ok se scelgo sincronizza lui mi sincronizza esattamente questa cartella quindi il canale general con tutti i suoi contenuti una best practice è quella di fare un click qua ok e sincronizzare questa cartella piuttosto che la cartella del singolo canale perché perché nel caso in cui il vostro gruppo teams come nel mio caso abbia più canali ok in questo modo voi sincronizzate in automatico il contenuto di tutti i canali altrimenti dovete fare sincronizza canale per canale che è un po' una rottura di scatole se fate click su sincronizza lui apre il client di sincronizzazione di OneDrive per qualche seconda poi c'è una bella interfaccia che ti dice ciao la tua cartella su teams adesso è sincronizzata anche sul tuo pc se vuoi diciamo puoi accederci velocemente e così via io non faccio nulla però quello che vi voglio far vedere è questo che dopo aver fatto questa azione di sincronizzazione di file dal mio gruppo teams ho la possibilità di accedere a un'altra cartella che viene creata in automatico dal client di sincronizzazione di OneDrive questa cartella la trovate sempre all'interno delle cartelle del vostro pc su esplorare risorse e si chiamerà esattamente con il nome della vostra azienda in questo caso questo nome è modificabile ok fate bene attenzione voi amministratori IT di OneDrive che una volta modificato le persone per avere il nuovo nome delle cartelle nel proprio pc devono risincronizzare le document library di teams oppure la propria cartella personale di OneDrive vedete anche questo nome qua se io oggi decido di modificarlo siccome ho già sincronizzato i file sul mio computer continuerò a vedere sempre il nome vecchio ok per vedere il nome nuovo devo fondamentalmente risincronizzare tutto quanto che è un po' una rottura di scatole quindi amministratori IT state bene attenti a scegliere il nome giusto all'interno dell'area di amministrazione di Microsoft 365 a cui potete accedere all'indirizzo admin.microsoft.com bene accedo a questa applicazione e qua vedete sono presenti tutte le cartelle dei gruppi teams in cui ho accesso che ho deciso manualmente di sincronizzare e c'è anche la cartellina che ho sincronizzato adesso vedete eccola qua ci sono esattamente le stesse cartelle e gli stessi file la peculiarità di questa sincronizzazione è che di default i file sono tutti con la nuvoletta quindi non occupano spazio sul mio computer però tranquillamente io posso navigare qualsiasi cartella vedere l'elenco dei file e poi decidere quali file aprire con lo stesso meccanismo di prima cioè se apro un file OneDrive il client di sincronizzazione me lo scarica in automatico posso decidere di tenere tutti questi file nel mio computer perché so che ci voglio accedere offline eccetera eccetera in questo caso però avete una variante in più perché io ho scaricato l'elenco dei file presenti in un gruppo teams un gruppo teams viene creato per antonomasia quando devo collaborare con più persone e quindi dovete stare attenti al fatto che se state modificando un file di un gruppo teams offline è possibile che incontrerete dei conflitti che cos'è un conflitto un conflitto è la situazione seguente io modifico un file quando sono offline lo stesso file viene modificato su teams da un mio collega io ritorno online quindi riattacco la rete il can di sincronizzazione di OneDrive prova a caricare la nuova versione di quel file però si accorge che nel frattempo il file è stato modificato e allora ti dice alt guarda che c'è un conflitto e l'ultimo che arriva quindi l'ultima persona che fa la modifica o che si connette a internet per ultimo deve gestire il conflitto gestire il conflitto significa scegliere o di caricare la propria versione sovrascrivendo l'altra che comunque non viene persa perché col meccanismo di cronologia delle versioni noi possiamo sempre vedere la versione precedente oppure scegliere di tenere la versione che c'è su teams quindi quella modificata dei vostri colleghi oppure compararle e tenerle entrambe come dicevo prima per quei file in cui la comparazione quindi la funzionalità di comparazione è presente di default come per esempio in word potete fare facilmente una comparazione delle modifiche per file di altro tipo tipo pdf file zip eccetera è più difficile quindi dovete decidere se tenere la vostra tenere quella che c'è su teams oppure tenerle entrambe io vi consiglio di tenerle entrambe e poi parlare con i vostri colleghi e capire quali sono state le modifiche che avete fatto in contemporanea ok diciamo che one drive non è che in autonomia perde dati o fa casini sulle versioni dei file vi dice sempre guarda c'è un conflitto decidi tu che fare ok quindi siete sempre owner di quelle che sono le vostre azioni sui file sia di teams sia di one drive questa opzione può capitare anche nella vostra cartella personale perché come vedremo a breve one drive una delle sue funzionalità principe è quella di condivisione di un file e chiaramente il concetto è lo stesso cioè se io modifico un file offline che è stato condiviso con un mio collega e poi mi connetto e nel frattempo anche lui l'ha modificato chiaramente cado in questo stesso caso per cui devo gestire il conflitto ok benissimo andiamo avanti e vediamo adesso il prossimo argomento perché come vi dicevo one drive è fantastico per avere lo spazio di archiviazione cloud non perdere i dati avere la cronologia delle versioni e tante altre funzionalità ma secondo me una delle più importanti è proprio quella di condivisione ok condivisione di file o cartelle condivisione significa il fatto di prendere un file di cui io sono l'owner quindi sta nella mia cartella di one drive e sceglio di condividerlo con un altro dei miei colleghi interni all'azienda oppure addirittura con esterni in questo caso one drive è fantastico per bypassare l'utilizzo di sistemi online gratuiti tipo we transfer cavolate varie che mettono a serio rischio serio pericolo quelli che sono i contenuti confidenziali aziendali perché quando metto un file su vtransfer di fatto sto facendo uscire il file dal mio contesto di sicurezza aziendale e lo sto mandando a un tool di terze parti che chissà che cosa fa del mio file e delle mie informazioni ok molto molto importante vediamo quindi come utilizzare l'interfaccia web di one drive e anche l'interfaccia client di one drive sincronizzato sul mio pc per condividere un file ok condividere un file è molto semplice posso selezionare il file file o cartelle posso condividere sia file o cartelle è indifferente una volta selezionato diciamo il file ho la possibilità di scegliere questa iconcina qua e accedere a questa interfaccia di condivisione qui posso andare a inserire utenti interni e lui mi aiuta con un autocompletamento oppure anche utenti esterni specificando i loro indirizzi mail ok in questo caso la persona che riceve un file condiviso da one drive ha due opzioni può o accedere in maniera permanente creando un account microsoft 365 gratuito oppure può farsi mandare da microsoft un codice temporaneo per l'accesso tramite mail ai file condivisi ok qui è a scelta di chi riceve questo file questa iconcina è molto importante perché mi permette di scegliere se questa persona può visualizzare il file senza modificarlo può modificarlo oppure può rivederlo quindi può diciamo aggiungere commenti al mio file senza fare modifiche funzionalità tutte molto carine posso aggiungere un messaggio ok e posso inviare il file perché è forte questa funzionalità di condivisione perché in questo caso io non sto inviando un file via mail se invio un file via mail genero almeno quattro copie dello stesso file una è quella che ho sul mio pc una è quella che mi rimane nella mia posta inviata una è quella che rimane nella posta ricevuta della persona e una è quella che diciamo la persona si salva nel suo pc almeno quattro e ovviamente probabilmente anche molte di più in questo modo invece la copia rimane una cioè quella presente all'interno del mio OneDrive io sto codividendo in questo caso solo il link e sto dando un accesso a questa persona al mio file nella mia area di archiviazione molto molto importante per evitare la proliferazione di copie dello stesso file se faccio clic poi su questa iconcina in alto a destra nell'interfaccia ho un po' di impostazioni in più di default io ho configurato il mio OneDrive a livello globale quindi serve un amministratore per fare questa configurazione l'ho configurato per dire guarda l'opzione di default è condividi solo con le persone che vengono specificate quindi persone specifiche però ho la possibilità sia di mandare diciamo un link di reminder a persone che hanno già accesso a questo file oppure posso creare un link che a chiunque viene inoltrato all'interno della mia azienda quindi a utenti che hanno licenze e account in Microsoft 365 nella mia istanza nel mio tenant loro possono accederci questo è molto molto carino nel caso in cui voglio condividere delle informazioni a cui potenzialmente hanno accesso tutti infine c'è un'opzione ultima che è la possibilità di creare un link pubblico senza accesso tramite username e password se scelgo tutti ho la possibilità quindi di creare un link a cui chiunque può accedere e in questo caso ho un po' di opzioni in più in generale sia per tutti che per le persone della mia azienda e anche diciamo per persone specifiche io ho la possibilità di bloccare il download quindi do un link di accesso a un file solo in visualizzazione senza che il file possa essere scaricato molto molto utile se scelgo tutti ho la possibilità di applicare due cose specifiche uno la scadenza del link due la password posso impostare una password per accedere al file questo è molto utile se devo condividere per esempio un listino prezzi con so più clienti e lo voglio ottenere privato genero una password genero il link che lo mando in coppia alle persone per dargli un accesso rapido senza fargli creare l'account Microsoft 365 come vi dicevo prima e queste secondo me sono funzionalità fondamentali di OneDrive for Business per la collaborazione con i colleghi il flusso normalmente qual è io magari flusso su un documento lavoro su un documento in draft e lo tengo nel mio OneDrive quindi ci faccio le revisioni che voglio ci accedo solo io eccetera a un certo punto magari voglio collaborare con uno o due colleghi gli condivido il file dal mio OneDrive così evito la proliferazione delle copie quando questo file è pronto magari per essere condiviso con più persone allora lo sposto proprio lo muovo non lo copio ma lo sposto su un gruppo Teams dove c'è un accesso più ampio ok questo di solito è il flusso andiamo avanti vediamo un'altra delle funzionalità cioè la cancellazione e soprattutto come recuperare informazioni dal cestino ok come vi dicevo sulla parte diciamo web c'è l'accesso a un cestino c'è un'area dove io ho la possibilità di vedere tutti i file che ho cancellato sia dal web sia dal mio pc quindi giusto per farvi capire se ritorno nel mio OneDrive nell'area demo e cancello il file che ho inserito prima anche se è un file solo cloud e quindi non è sincronizzato sul mio pc comunque lo posso cancellare faccio un cance e addirittura diciamo lui mi dice guarda lo sto proprio rimuovendo dal tuo pc quindi non lo ritroverai neanche nel cestino del tuo pc ok automaticamente questo file appare qua e questo vi fa capire una cosa molto importante che se io cancello diciamo un file adesso apparirà eh dategli un secondo però vi stavo dicendo che se io cancello un file dal mio computer e magari inavvertitamente svuoto il cestino perché boh lo voglio liberare per liberare spazio eccetera quei file non sono persi completamente no perché un file cancellato da one drive sul pc che avete sincronizzato viene subito sincronizzato nel cestino di one drive quindi nel cloud di microsoft e quindi io posso tranquillamente continuare ad accedere diciamo a questo file ripristinarlo e così via ancora non sta arrivando ma a breve arriverà per diciamo ripristinare un file è molto semplice seleziono il file ho la possibilità o di eliminarlo completamente oppure di fare ripristina fate conto che dentro questa area diciamo di cestino i file stanno per 90 giorni ok poi c'è un'area di ecco qua nel frattempo il nostro file giusto per farvi vedere che non dico cavolate c'è un'area poi di cestino di secondo livello che è qui in fondo la trovate scrollando 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 tanto fino a quando non arrivate diciamo alla fine di tutti i file che avete cancellato eccolo qua aspetta che tolgo ecco il footer vedete qua c'è proprio un link per accedere a questo cestino di secondo livello cestino di secondo livello adesso nel mio caso è vuoto ma ci vengono messi tutti i file che sono stati cancellati più di 90 giorni e ci stanno per altri 30 giorni ok quindi avete un totale di 120 giorni per recuperare i vostri file molto molto importante ok andiamo avanti e vediamo un po' quelli che sono i settings di OneDrive in questo caso non tanto i settings della parte web ma i settings del mio client di sincronizzazione ok ritorniamo sul mio computer mi tolgo un attimo così vi faccio vedere come accedere a questi settings fondamentalmente fate clic sull'icona a forma di nuvoletta qui in basso a destra c'è un'area di configurazione a cui potete accedere tramite questa iconcina in cui potete innanzitutto fare un'azione molto carina che è la pausa della sincronizzazione come vedete OneDrive gira in continuazione e può capitare che magari avete una rete non tanto performante oppure vi servono le performance massime della vostra rete e allora andate a mettere la sincronizzazione di OneDrive in pausa per qualche ora è una buona funzionalità infine avete la possibilità di chiudere OneDrive perché magari non volete più sincronizzare per questo momento oppure potete accedere a questa area di settings qui è molto utile perché punto numero uno potete aggiungere sia l'account personale quindi OneDrive per privati sia l'account aziendale quindi OneDrive for business facendo clic su add account avete qua la possibilità di ritrovare tutte le cartelle dei gruppi teams che avete sincronizzato in locale e scegliere se diciamo modificarne il percorso oppure proprio stoppare la sincronizzazione e questo è utile nel caso in cui appunto volete liberare un po' di spazio dal vostro computer e rimettere un po' a posto l'ordine insomma delle vostre cartelle in più avete la possibilità di scegliere un po' di impostazioni per la sincronizzazione scegliere se OneDrive parte in automatico o meno quando parte Windows scegliere impostazioni per il risparmio della batteria eccetera eccetera in più un po' di impostazioni sulle notifiche ma molto molto importanti in quest'area trovate esattamente la percentuale di spazio che avete utilizzato del vostro OneDrive informazione molto importante per arrivare a saturare lo spazio che avete cloud all'interno di Microsoft 365 ok benissimo con queste ultime informazioni sono arrivato alla fine come avete capito OneDrive for Business è uno strumento veramente sensazionale è uno strumento che ci aiuta nella nostra produttività quotidiana di tutti i giorni per sia lavorare in autonomia quindi usarlo proprio come mia folder personale di archiviazione ed evitare sai le classiche cartelle di rete a cui ho accesso solo se sono in azienda sia è un tool per iniziare il processo di collaborazione con i miei colleghi che poi chiaramente finisce su Microsoft Teams spero che questa guida vi sia utile e se avete ovviamente necessità di chiarire qualche dubbio o di ulteriori informazioni scrivete nei commenti a presto